Dica da Marco, che torna da Sassari Oh Marco, bravo! Oh, quanto vedrà? Buon campare! Buon campare! Ma fa' il culo! La chiade là in culo, che cosa! Vai Marco, vai! Buon campare! 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 Siamo quelli che, a quelli come te, che non ci fanno mai pagato a breve, perché siamo quelli che, a quelli se lo sai, a quelli come te, che non ci fanno mai pagato a breve, perché non ci fanno mai pagato a breve, perché siamo i soldi, perché siamo i soldi, perché non ci fanno mai pagato a breve. Grazie.